Dal primo al 4 settembre il maschio angioino accoglierà a bordo il primo festival nazionale di Mediterranea, associazione impegnata nel soccorso in mare delle persone migranti e nelle missioni umanitarie in Ucraina. Patrocinata dal comune di Napoli, l'iniziativa è stata presentata a Palazzo San Giacomo dalla presidente di Mediterranea Vanessa Guidi con la capomissione Laura Marmorale e l'assessore alle politiche sociali Luca Trapanese. Siamo già stati testimoni in passato di queste propagande di odio razziale, di denigrazione verso tutto quello che è diverso e che arriva dal Mediterraneo come se avesse l'opportunità invece di farlo diversamente. A noi non interessa, noi siamo convinti di quello che facciamo, è estremamente importante salvare quelle vite umane che si trovano in quella condizione di pericolo proprio per colpa nostra, per colpa di tutti quei fondi che vengono destinati dall'Europa e dall'Italia alla cosiddetta guardia costiera libica, alle missioni militari in Libia e che provocano morte e torture in Libia e nel Mediterraneo centrale. Ognuno di noi può diventare un rifugiato in un altro paese, questa pace che noi viviamo non è detta che sia una pace duratura e che non ci troviamo nelle stesse condizioni di persone, di donne, bambini e uomini che hanno bisogno di essere accolti e di essere accompagnati a recuperare la vita. Durante il festival, che proporrà incontri, dibattiti e concerti, si riuniranno per la prima volta in Italia buona parte delle ONG impegnate nelle missioni di soccorso nel Mediterraneo centrale, una vera e propria flotta civile per il salvataggio delle vite in mare. Noi dobbiamo continuare e anzi intensificare ora le missioni in mare e in terra per essere coerenti con la pratica quotidiana a sostenere i diritti umani e la vita delle persone. Anche il festival di Mediterranea sarà un punto fondamentale per questo. Ci troveremo insieme per discutere di quello che sta succedendo e di come continuare a farlo nel migliore dei modi, nel rispetto dei diritti umani e nella salvaguardia della vita delle persone. È possibile, lo stiamo sperimentando nei nostri centri di accoglienza, che adesso lavorano bene, che si occupano di accogliere donne, bambini, immigrati, di dare loro un lavoro, di cercare di capire quali sono i problemi per cui loro sono arrivati e cercare di aiutarli come uomini e donne. Questo si può fare, ma c'è bisogno da parte delle istituzioni una grande predisposizione, una grande volontà e collaborare a 360 gradi con tutti gli enti, l'AS, la Prefettura, la Questura e gli enti del terzo settore, come per esempio quelli di oggi di Mediterranea, che è un ente di un certo livello.